Salve a tutti, io sono Midgeot137, ovviamente questo è Rise of Kingdoms, oggi vi darò qualche altro consiglio per migliorare la vostra esperienza sul gioco, cercheremo di forgiare un pezzo leggendario sul profilo principale, vedremo come sta procedendo il pre-KPVK ed infine maxeremo Nevsky, vi dirò quali erano le alternative a Nevsky e vi dirò anche perché ho maxato Nevsky. Il primo consiglio che vi posso dare è quello di formare risorse all'interno dell'alleanza, del territorio dell'alleanza, per il semplice fatto che, uno, siete più veloci, la velocità di raccolto aumenterà del 25% quando stai raccogliendo le risorse nel territorio dell'alleanza e due, una parte delle risorse raccolte andranno nel magazzino dell'alleanza. Ovviamente per alzare ricerche dell'alleanza scegliono risorse oltre a che crediti, i crediti dell'alleanza vi ricordo che si fanno dando aiuti all'alleanza, donando le tecnologie dell'alleanza e la costruzione degli edifici dell'alleanza, ad esempio costruendo una bandiera. Per costruire una bandiera ovviamente servono risorse e crediti alleanza. Il secondo consiglio è questo. Se avete una ricerca o una costruzione di tanti giorni, il mio consiglio è quello di aspettare che il re attivi il bath regno. I bath regni sono esattamente 4. Facciamo 3. Velocità di estramento 10% per 4 ore, rivoluzione industriale, velocità di ricerca per 4 ore, del 10% per 4 ore, velocità di costruzione 10% per 4 ore. Ovviamente il re usa la gemme per attivare questi bath, durano 4 ore, quindi il mio consiglio è prendete reliqui dai santuari, in zona 1 trovate 1-2, livello 1-2 dei santuari, in zona 2 trovate il livello 3 e infine il tempio perduto. Nel tempio perduto troverete le migliori eliquie, quindi prendete reliquia nel tempio perduto, chiedete titolo, lo abbiamo visto nel scorso video, come chiedere titolo e mettete in costruzione, aspettate gli aiuti e in caso velocizzate. Il terzo consiglio è quello di essere molto attivi, quindi essere attivi nell'alleanza, quindi donate sempre le risorse alleanza, farmate nel territorio d'alleanza, partecipate agli eventi alleanza e soprattutto leggete le e-mail. È un regno giovane questo dove sono adesso, quindi le e-mail saranno molto frequenti. Quarto consiglio, ve l'ho già detto anche nel scorso video, cercate di entrare nelle prime 4-5 alleanze. Ovviamente devono essere molto attive, soprattutto nei forti. Facendo i forti il dono alleanza si alza e riceverete premi molto buoni. State molto attenti come si sviluppa il regno, quindi quando è il momento di cambiare alleanza perché si mette contro il regno, cambiatela pure. Ovviamente per rimanere nelle 4-5 alleanze top dovete usare i velocizzatori, quindi un mio consiglio è quello di non risparmiare all'inizio, reliquia dai santuari, aspettare aiuti e velocizzare. In questo modo rimarrete nelle 4-5 alleanze top. L'ultimo consiglio che vi posso dare è quello di non attaccare nessun tipo di giocatore, non attaccante i punti risorse degli altri giocatori, vi renderà la vita più facile nel regno. Se non vi piace il regno, prendete il passaporto ed emigrate in un altro regno. Quindi il mio consiglio è crescete, alzate le strutture, truppate sempre, mi raccomando, alzate le ricerche e preparatevi per i futuri KVK. KVK, 1846 campo del fuoco, 1093 campo dell'acqua, 1671 più 2001 campo della terra, 1916 più 2000 campo del vento, il campo del vento e il campo della terra si sono uniti in un'alleanza e andranno incontro 1846 e 1093. siamo ritornati nel mio profilo principale, siamo alla terza fase del pre-KVK, come possiamo vedere la classifica, in prima posizione troviamo il campo della terra con 1671, in seconda posizione con il mio sorprello sinceramente l'1846 campo del fuoco, in terza posizione troviamo il campo della terra sempre col 2001. Il mio regno, campo del vento e ultimo, 1916. L'unico non imperium di questi sei regni è il mio, tutto il resto sono regni imperium. Punti, non fatti veramente pochi, un 600.000 più o meno nella prima fase, quello dei predoni, destrammento, ho fatto un po' di fanteria, non tantissima quanto basta. Vediamo i comandanti di ora. Dieci giorni fa, più o meno, ho fatto la ruota di Nevsky, più o meno è andata abbastanza bene. I dubbi erano se alzare Nevsky o Attila o andare su Xiang Yu. Ho fatto un sondaggio su Facebook, su nostro gruppo di Rise of Kingdom. Hanno partecipato in molti, con mia sorpresa sinceramente. Una cinquantina di persone hanno votato Xiang Yu, mentre una quarantina hanno votato Nevsky. Cinque o sei persone hanno votato Attila. Ho visto diversi report di Nevsky, ho chiesto una persona che veramente hanno più esperienza di me, nel vero senso della parola, hanno più giorni di me, vanno in campo aperto più di me, molto probabilmente, spendono forse anche di più di me, e mi hanno detto di andare su Nevsky. Quindi ora lo alzeremo e lo faremo a livello sessanta. Cominciamo a mettere i tomi. Cominciamo a mettere le stelle. Cominciamo continuiamo con i tomi. continuiamo con i tomi. il nostro obiettivo è farlo ovviamente a livello sessanta. il nostro obiettivo è farlo ovviamente a livello sessanta. cominciamo a mettere i tomi. 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 continuiamo con le stelle ed ecco la quinta stella la sesta stella lo facciamo con lo 60 alziamo l'abilità vi faccio un attimo vedere come si bloccano le abilità cercate sempre di alzarla prima almeno in quasi tutti sbloccate la seconda sbloccate la terza sbloccate la quarta ed ecco l'ultima abilità la competenza ed ecco che abbiamo il nostro dove me l'hanno messo il piccolo nevski 0,60 con 6 stelle con il massimo delle abilità vi faccio vedere un attimo i talenti come vanno messi ovviamente trovate tutto su internet potete guardare nei vari gruppi discord i contents creators io sinceramente qualche volta mi fido di loro ok 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 e mancano 4 questo ok con chi lo copierò e soprattutto quale comandante fare dopo lo copierò con william quindi nevski primario e william secondario quali comandante farò dopo molto probabilmente leonida 5 5 1 1 è già buono e lo copierò molto probabilmente con guangyu servono 200 teste se non sbaglio adesso ne ho 191 sono bip 16 3 teste al giorno una vicina di giorni e lo farò anche quello ora viene il bello molto probabilmente la parte più interessante del video dalla spedizione dalla spedizione ho trovato questo ho visto un trucchetto su internet che adesso proverò vediamo se funziona ok ok Ok. 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 Ok.